buongiorno amici di radio jeans siamo qui in compagnia del leggendare kit combo più leggendare che kit che combo che combo leggendare kit combo e niente allora come vi siete trovati qua a guardi neto a balla con i cinghiali guarda non c'è l'ampio parcheggio non ci hanno dato le patatine non ci hanno portato i fonzi non ci hanno portato da bere però è stata una figata pazzesca quando l'agenzia mi ha chiamato per suonare a balla con i cinghiali ho detto cazzo ma no non se ne parla neanche poi abbiamo visto un attimo su internet che era una roba veramente fatta bene bella 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 siamo arrivati qua prestissimo è stato molto bello è stata una figata ci siamo divertiti ragazzi ragazzi fantastici bello il pubblico misto che noi adoriamo il doppio misto anche il fritto misto bello bello poi l'anno scorso 60 mila persone quest'anno prima serata già tante così si pronuncia un'ottima serata veramente non mancheremo mai più adesso abbiamo deciso di cambiare nome della band tutti gli anni e riproporci a balla con i cinghiali ah eh che bello e fare è meglio non so mai vuol dire che vi siete trovati bene molto alla grande è bellissimo ho sentito che avete fatto molte cover di gruppi famosissimi di cui li avete rispecchiati in perfetto modo voi li studiate oppure diciamo vi mettete lì e seguite il vostro istinto diciamo che vengono abbastanza a caso perché siamo influenzati da cose diverse e magari ogni tanto capita che sul palco improvvisiamo un pezzo ci piace come viene lo riproponiamo un paio di volte poi man mano lo cambiamo sempre durante i concerti finché non troviamo la chiave giusta e poi si va anche molto importante per noi non fare le prove ah ah niente prove si sale no se no io ho idea che le prove uccidono le band si è vero è vero è il bello della diretta effettivamente anche noi siamo qua nel bello della diretta come viene viene se avessimo fatto le prove avremmo ucciso l'intervista da dove venite l'ultima domanda veniamo da provincia di Pavia a Voghera un po' provincia di Verona a Nogara provincia di Brescia di Senzano del Garda siamo un po' sparsi un bel cocktail si dal nord est al nord ovo è alla grande a noi ci ha fatto un piacere enorme sentirvi grazie e alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti ciao ciao